...i per mettergli in grane al domando e nella prima variante dove trovano il filler... ...e sono i suoi ufficiati... ...e li condiziamo... ...e ci hanno fatto un scambio, vediamo dei fiumoni, davanti abbiamo il pericolo Kanzinis... ...dietro di lui abbiamo Harding che però è in lotta con Carlo Sarri che giungono alla staccata della roccia... ...posizioni mutate ma alle spalle abbiamo una toccata da parte di una durata delle retrovie che è arrivato lungo e ha mandato in testa a coda il suo avversario... ...due varianti e già due incidenti... ...i commissari della direzione gara c'è già un materiale su cui lavorare... ...due cose...